Cari amici di Radio Pugginio NER, ben ritrovati, siamo di nuovo qui in diretta, ci siamo ricollegati con voi perché abbiamo saputo da poco che c'è un altro ospite stasera di martedì, un ospite molto importante che ora stiamo attendendo anche con una certa fremenza, quando uno freme, come si dice, una fremenza, non so, voi state fremendo? Allora restate con noi perché tra pochissimo, l'ha appena annunciato Floris, tra penso poco o meno, forse un minuto soltanto, di pubblicità arriva Roberto Vecchioni e noi ascolteremo cosa, perché sicuramente sarà un'intervista, non credo che farà un live, se canterà qualcosa ne saremo felici, ma altrimenti saremo qui per raccontarvi in diretta e commentare con voi l'intervista che ascolteremo a un grandissimo, oltre che un grandissimo cantautore, secondo me anche un grande pensautore, una persona che io ascolto personalmente sempre con molto piacere, perché ha sempre qualcosa di straordinario da dirci. Allora, ci siamo quasi, intanto ne approfitto per ringraziarvi tutti coloro che ci seguono, che si sono iscritti al mio canale YouTube Marco Puggini, che ascoltano le mie canzoni e mi fanno sapere cosa ne pensano, quindi vi ringrazio perché a volte davvero ricevo dei feedback bellissimi, per adesso nessuno ha mai detto ammazza quanto fai cagare, non sei buono, lascia perde, non sei un cantautore, tu sei un, non so, una merda. Nessuno me l'ha mai detto sinora, per cui se lo pensate ditemelo, perché altrimenti mi sembra strano che a tutti piacciano così tanto le mie canzoni, peccato che siete pochissimi ancora a conoscerle, però potete anche aiutarmi a diffonderle un po', a farle circolare tra i vostri amici se vi piacciono, ripeto. Sì, sto prendendo tempo perché siamo in attesa che finisca la pubblicità, siamo in diretta qui, per chi si fosse collegato solo ora, a Radio Puggini On Air, per raccontarvi l'ospitata, l'intervista di Roberto Vecchioni di martedì da parte di Giovanni Floris. Ma eccoci, ci siamo, la pubblicità giunge al termine, per cui ci dovrebbe essere subito il grande maestro Vecchioni. Ma prima abbiamo a sorpresa Luca e Paolo. Luca e Paolo che stanno imitando, c'è Luca che sta imitando la Schlein, che fa finta non ricordi le parole di Bella Ciao, che sta festeggiando, insomma, la guida, la vittoria in Sardegna. E poi a un certo punto Paolo dice, ma guardate che, perché praticamente la Schlein era convinta di aver vinto le elezioni nazionali. Ecco, stavano giocando su questo perché poi ha fatto tirar fuori alla Schlein un fogliettino con tutti i nomi dei possibili ministri. Ha detto che doveva andare al Quirinale, per cui doveva scegliere bene il vestito. E poi Paolo ha detto, guarda, avete soltanto vinto in Sardegna. In realtà questo è il gioco su cui hanno improntato la gag sulla Schlein, che è come se non sapesse quello che accade intorno a lei. In questo modo la stanno prendendo in giro. Dice la Schlein, il problema di Conte è lessicale. Naturalmente dice Luca che imita la Schlein. Dice, dirlo tu, Campo Largo, Camporella. Dice, su tante cose siamo perfettamente concordi, intende il PD e il Movimento 5 Stelle. E gli domanda Paolo, tipo? E risponde Luca, e ci sta sul cazzo Renzi. Insomma, una piccola gag quindi di Luca e Paolo prima dell'intervento di Roberto Vecchioni, che stiamo tutti attendendo e già è inquadrato in studio. Ora, la gag va avanti. Naturalmente è difficile raccontarvi, commentarvi in diretta tutte le battute. E domanda, scende la Schlein, Paolo, ma scende in campo anche lei? Allora scende in Abruzzo, voglio dire. Perché ci sono le elezioni domenica prossima. Dice, ma io c'ho una voglia di mare, fa rispondere a Schlein Luca. No, no, dice, ma non c'è il mare? Dice, no, l'Abruzzo non ha il mare. Insomma, vabbè, hanno descritto la Schlein come una un po' rincoglionita, insomma, che non sa le cose. Dice Floris, lasciamo festeggiare Luca e Paolo e diamo il benvenuto a Roberto Vecchioni. Ecco la domanda. Ha fatto la storia della canzone d'Italia, professore greco e latino per tanti anni. Ora in libreria con Tra il silenzio e il tuono, edito da Inaudi. Benvenuto Roberto Vecchioni, dice Floris. Ringrazia Vecchioni. Vecchioni, sono tanti i temi di cui vogliamo parlare, ma non si può non iniziare da un professore di liceo, dalle manganellate ai ragazzi di Pisa. Cosa può rappresentare per lei? Domanda. E risponde Vecchioni. Rebrezzo, assolutamente, come prima impressione risponde Vecchioni. Caduta verticale della cultura, come era interpretata un po' di anni fa in Italia. E poi assolutamente, dice Vecchioni, il bisogno, l'assoluto bisogno di accettare qualsiasi manifestazione. Basta che non sia violenta, perché la libertà è questa. Uno può andare, Floris, un gruppo di ragazzi può andare sotto una moschea, sotto un tempio, sotto un'ambasciata, sotto un consolato, a dire tutto quello che vuole, perché è questo il senso della democrazia. Non c'è altro significato nella democrazia. C'è questa libertà meravigliosa di poter dire io non sono d'accordo. E dice, ok, Floris, in questo tempo di contrapposizioni così crude, così semplicistiche, il dibattito è diventato. Ma la polizia deve avere la possibilità di respingere l'illecito. Perché le chiamiamo delle categorie così antiche? La destra del rigore, la sinistra che lascia fare tutto quello che è anche illegale e illecito. Risponde Vecchioni, sì, direi che c'è un po' di esagerazione da tutte le parti. Questo è vero. Io quando ho parlato di questa cosa già altrove ho pensato, dice Vecchioni, al famoso articolo di Pasolini che tutti ricorderanno Valle Giulia. Ma era un altro tempo. Allora lui difese questi poliziotti meridionali, figli di povera gente, davanti a borghesi, radical chic che facevano quello che volevano. Ma non è il caso di Pisa. A Pisa nessun ragazzo ha alzato le mani. Sono stati picchiati e basta. Dunque non c'era nessuna ragione di questo. Si accompagnano i ragazzi, si accompagnano dove vogliono andare, ci si mette intorno, e li lasciano urlare e protestare quanto vogliono. Non c'è bisogno assolutamente di altro, perché i ragazzi sanno quello che fanno. Non rompono, non spaccano. Se incominciano a rompere e spaccare, allora è un'altra cosa. Però c'è, dice Floris. Ah no, è continuo ancora. Vecchioni. Ma ha detto anche di parlare non solo dei ragazzi, ma anche del resto, perché c'è questa divisione così profonda, così... vede, sempre partendo dai ragazzi, una volta, un ragazzo degli anni 70, per esempio, pensava che si andasse verso il progresso. Sempre Passolini, cito, eh. E invece si andava, come direbbe oggi un ragazzo contemporaneo, non verso il progresso, verso lo sviluppo, che è un'altra storia. Perché il progresso è per tutti. Per tutti. Lo sviluppo per una minoranza, per quelli che hanno interesse a quello sviluppo. Ecco perché siamo così. Perché c'è una minoranza che comanda e gli altri che devono stare zitti. Ci sono delle categorie culturali, dice Floris, che risuonano molto antiche. Noi siamo governati da una destra che più volte ha rivendicato il criterio di orientarsi secondo la triade Dio, Padre e Famiglia. Abbiamo due leader della destra, come Meloni e Salvini, che più volte si qualificano con categorie così antiche. Dice Vecchioni, queste categorie cose antiche, il motto Dio, Padre e Famiglia, non è appannaggio della destra. Basta che ognuno possa avere il suo Dio e possa avere la famiglia che vuole. E aggiungerei a queste tre cose, sente l'applauso e si ferma un attimo, aggiungerei Dio, Patria, scusate, prima ho detto Padre, scusate davvero, Dio, Patria, Famiglia e Umanità. Se aggiungiamo anche Umanità è perfetta, dice Vecchioni. Scusate, nel commento in diretta succedono queste cose, ho detto Padre, invece la Patria. Naturalmente, Dio, Padre e Famiglia. Dice Vecchioni che il concetto anche di Patria è vivissima in tanti ragazzi e in tanti che si sentono ancora giovani, altrimenti non andremo avanti. E noi non vogliamo grandi fratelli, noi vogliamo assolutamente essere uguali in tutto, diritti e soprattutto nel senso della libertà. Allora, il suo libro è una sorta di autobiografia. Ora andrò ancora più dentro il mondo che stiamo vivendo, ma se dovesse aggiungere una lettera a questo libro, descrivendo questo periodo, cosa aggiungerebbe? Sì, mi è venuta in mente una cosa, risponde Vecchioni. Pensa un po', è fantascientifica, eh? Una lettera scritta da un ragazzo degli anni 70 a uno di adesso. O viceversa. Uno di adesso scritto ad un ragazzo degli anni 70. Perché negli anni 70 l'80% dei ragazzi avevano speranze. Oggi è scesa questa quota. Sarà sul 40, 30, non di più. Ed è un dramma. E aggiungo, dice Vecchioni, perché c'è da aggiungere, è visto in un'altra linea, che i ragazzi non solo mancano di questa speranza, ma che la soglia della speranza si è abbassata completamente. Si ha speranza oggi fino al massimo 25 anni e dopo arriva la vita per tutti. Una volta si aveva speranza anche fino a 35, 40 anni. E questo è brutto, è orribile. La mancanza di speranza, la stanchezza della speranza. Altro parallelo con gli anni 70, dice Floris, lei ha fatto la storia della musica dei cantautori e anche la motivazione politica che spinge a fare arte, a fare musica. Cartello 28, dice Floris, c'è un'idea che circola nella commissione Vigilanza Rai. Un'esponenza eleghista dice facciamo una risoluzione per sospendere da sei mesi a un anno gli artisti che esprimono opinioni politiche. Questo ne abbiamo parlato anche qui a Radio Puggini è un R. E quindi già ride Vecchioni domanda a Floris di che cosa è sintomo un'ipotesi del genere che comunque circola, nasce dalla mente di un parlamentare e non viene smentita dai vertici. Cosa vuole che le risponda, dice Vecchioni? lei ha presente il nostro grandioso novecento cabaret politico, tutto il nostro cinema, i grandi del cinema neuralista, i chansonniers, i cantanti francesi eccezionali, non facevano politica, facevano politica dalla mattina alla sera perché c'era una libertà che cosa significa che uno si occupi soltanto di cantare? Allora lui si occupi soltanto di sedersi su una sedia e non parlare. Sarebbe molto meglio, anzi, sarebbe molto meglio per tutti. E poi dice, Floris, poi ci sono i linguaggi dei politici, gli atteggiamenti dei politici che hanno fatto molto discutere le frasi tipo di Meloni in Sardegna quando dileggiava l'opposizione. Qualcuno l'ha collegati ad un diciamo a delle recenti espressioni. Luciano Littizzetto nella trasmissione di Fabio Fazio ha scritto una lettera ai politici e ha detto questo se il politico prende in giro gli altri politici o addirittura chi non l'ha votato invece non è comicità è una specie di arroganza di protervia supponente e il sarcasmo col potere diventa bullismo. Noi politici li vogliamo seri, empatici, ironici talvolta ma competenti d'altronde se devi ripianare il debito pubblico che equivale al 134% del PIL non è proprio un cazzo da ridere. Il comico è il tragico visto di spalle vi prego non fate che il comico diventi il politico visto di fronte dice Floris stanno stanno cambiando il linguaggio il ruolo da interpretare o la missione che svolgono i nostri politici no devono proprio andarsene via dice Vecchioni guarda non stanno cambiando niente non hanno nessuna facoltà di cambiare per esempio quel politico che stavamo vedendo adesso che è una delle mie simpatie perché finalmente c'è una persona con la testa con un'intelligenza e con la logica non dico che voto il suo partito ma una persona ah e sta parlando di Galenda addirittura no questo non ce l'aspettavamo una persona veramente ad hoc dice Vecchioni lui è meglio che resti moltissimi sarebbe meglio che se ne andassero proprio via si portassero via anche la sedia tutto ammazza questa calla a calenda non me l'aspettavo dice Floris ma il linguaggio dei politici è così diverso dal linguaggio della società anzi la società produce un linguaggio che verrebbe da condannare guardi per esempio il fenomeno Vannacci che dice che voi omosessuali normali non lo siete fatevene una ragione ecco stiamo vedendo una breve clip di Vannacci che a me fa venire proprio l'orticaria per cui non lo posso né vedere né sentire sinceramente sto facendo una fatica enorme sì vabbè è finita per fortuna dice Floris sono tutte questioni molto antiche che suonano drammaticamente attuali e questa persona si parla di questa persona come numero uno in lista per le elezioni europee cosa le fa pensare dice Vecchioni questa è l'anticultura Floris l'anticultura non è un peccato veniale è una ferita difficile da rimarginare nella società la cosa tremenda è che è stato in classifica questo articolo ha stravenduto il suo libro volevo dire e questo tutto questo mi fa veramente male dice Vecchioni mi fa male perché noi siamo italiani siamo il popolo più intelligente più forte e più immaginativo del mondo siamo disgregati non capisco perché ognuno pensa di essere meglio dell'altro in un modo osceno noi dovremmo stare uniti e uniti per un avvenire di cultura e non di anticultura questa gente non dovrebbe non dovrebbe parlare non dovrebbe essere ascoltata sia corretto perché purtroppo non possiamo impedirgli di parlare dice intanto Floris comunichiamo a Calenda che ha avuto perché è lì ora presente in studio ha avuto dei complimenti da parte dei vecchioni forse non ci crede nemmeno Floris ma domanda ma sto fascismo praticamente vecchioni vecchioni dice ma il fascismo non esiste sono pochi sono talmente pochi ma gli si dà voce dice la Meloni stessa non è fascista ha idee che non sono le mie ma non ha assolutamente quel più orribile veramente violento insano di un'epoca che vogliamo solo dimenticare solo dimenticare però purtroppo questo lo aggiungo io invece loro ce lo ricordano tutti i giorni vabbè però non è che possiamo essere d'accordo tutto con me con Vecchioni voi cosa ne pensate ora ultima domanda sul campo largo dice Vecchioni il campo largo me lo auguro non c'è altro da fare insomma un campo largo Calenda sarà sicuramente uno d'accordo su queste cose il silenzio è il tuono dice il silenzio è l'anima l'immaginazione lo spirito tutto ciò che viene dallo spirito il tuono è rumore delle cose che tu fai avvenire nella vita o ti avvengono e questo tuono è così propulsivo così forte a volte così doloroso che lo puoi soltanto acquietare con lo spirito e con la coscienza di te ed ecco che ringrazia Floris ringrazia Roberto Vecchioni e finisce qui la sua intervista ora c'è tra l'altro Giannini insieme a Calenda ma noi vi lasciamo Calenda che è stato dunque è stato elogiato da Vecchioni questo ha stupito abbiamo visto ha stupito Floris e non solo ha stupito anche me forse anche molti di voi e non aggiungo altro perché così a caldo potrei dire delle stronzate e poi un'altra cosa che ho notato e naturalmente sto dicendo tutte quelle cose che non mi sono piaciute perché le altre mi sono piaciute tutte questa idea che il fascismo non c'è e che comunque questa destra non ha non c'è quello stesso eccetera beh dopo aver ascoltato Annacci sarà così che la Meloni naturalmente non è fascista però non l'ha detto di di altri che naturalmente su altri è più difficile dire che non siano fascisti da quello che hanno perché loro stessi lo hanno affermato in passato tra cui anche il presidente del senato bene cari ragazzi e l'ha dimostrato se non l'ha affermato con le parole perché non vorrei fare una gaffe ricordo forse anche questo forse non era lui ma se non l'avesse affermato con le parole ha fatto vedere la sua collezione di statuine del duce e di immaginette sacre del duce a casa propria alle telecamere in passato ha mostrato a tutti e non hanno mai hanno sempre sfoggiato questo amore in passato prima naturalmente di prendere dei voti e dover ricoprire dei ruoli per cui ora devono fingere sono costretti a fingere che di non essere davvero fascisti e probabilmente non lo sono però questi se ne può parlare insomma non sto dicendo sono fascisti non sono fascisti ne stiamo parlando fatemi sapere dunque cosa ne pensate voi degli argomenti che abbiamo toccato stasera ascoltando commentando anche vecchioni e argomenti molto attuali direi proprio quelli di cui si parla in questi giorni abbiamo già parlato qui a radio Pugginio NER potete rivedere le puntate su Vannacci su tutti gli esponenti su Salvini potete rivedere le puntate di questi giorni in cui abbiamo approfondito molti temi attuali e non solo di martedì c'era poco fa Alessandro Di Battista ritroverete anche la puntata in cui facciamo la radiocronaca di Di Battista qui sul mio canale YouTube Marco Puggini iscrivetevi ascoltate la mia musica e ci riascoltiamo presto in diretta qui a Radio Pugginio